L'azienda Veneta, leader nel settore degli infissi e dell'arredo giardino con punti vendita in tutta Italia e all'estero, arriva nel capoluogo Lombardo e lo fa con stile. Giovedì 19, nell'ambito degli innumerevoli eventi correlati al Salone del Mobile, Panto ha inaugurato il suo nuovo e moderno showroom nel cuore della città in Via Santa Sofia. L'azienda, che vanta cent'anni di esperienza, garantisce elevati standard qualitativi, design innovativo e un'assistenza tecnica personalizzata, volta alla totale soddisfazione del cliente. Una professionalità tramandata da generazione a generazione e che prende forma in prodotti di pregio. Per raccontare cent'anni sicuramente mi servirebbe molto tempo, però solo per spiegare un po' che Panto non è un'azienda che nasce qualche anno fa e prova a buttarsi nel mercato del serramento. Panto è un'azienda che ha creato il serramento, soprattutto in Italia, perché l'innovazione tecnologica, come il vetro camera, la ferramenta perimetrale, i vetri antinfortunistici, tutte cose che al giorno d'oggi sembrano normalissime a tutti noi, le ha introdotte Panto tra gli anni 60 e 70. Noi usiamo da sempre il legno, però a differenza di forse di altri produttori che ne hanno fatto una cosa, un problema dal punto di vista della manutenzione, il legno è eterno, se ben mantenuto ma soprattutto se ben consegnato. Arriviamo quindi all'inaugurazione di questo locale, parliamo proprio del design, dell'aspetto più prettamente estetico che va a caratterizzare il locale e i prodotti che sono visibili al suo interno. Sì, noi con questo nuovo showroom che la Panto ha voluto realizzare specificatamente in Milano, perché Milano rappresenta quella che è la punta di diamante della progettualità, dell'innovazione nel mondo della seramentistica e delle porte in generale. Con questo showroom dico abbiamo voluto presentare a questa progettualità tutto quello che possiamo esprimere dal punto di vista innovativo, per cui prodotti di grande qualità, di grande design e di grande innovazione tecnologica. presentiamo una linea di porte nuova, presentiamo una scorrevole magnifica con l'abbinamento dell'alluminio e del vetro e sempre nel mondo delle finestre gli abbinamenti di vetro e legno che fanno della nostra produzione il fiore all'occhiello.